Cambiano le date per il conferimento dei rifiuti per la stagione estiva sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano. E' quanto stabilito dal sindaco Giuseppe Lanzara che con apposita ordinanza ha disposto la rimodulazione del servizio di raccolta a partire da domani a causa dei persistenti problemi tecnici all'impianto stir di Battipaglia. Il nuovo calendario prevede il conferimento della frazione secca solo il lunedì dalle ore 20 alle 24 e in buste trasparenti in modo da poter consentire il controllo del contenuto all'interno. Esclusi da tale variazione gli stabilimenti balneari e commerciali della fascia costiera che potranno continuare a conferire l'indifferenziato anche il giovedì. Per quel che concerne l'organico sono tre i giorni individuati, martedì, giovedì e domenica dalle ore 20 alle 24. Confermate le disposizioni precedenti invece per gli altri tipi di rifiuti. Multe da 25 a 500 euro per i trasgressori.